bene bene buonasera a tutti benvenuti per cortesia una comunicazione di servizio vedo che in chat siete scatenati mi fa piacere cerchiamo anche di trascorrere una serata piacevole oltre che istruttiva visto che fa un caldo becco qualcuno gentilmente mi dice se si vede il mio schermo se vedete anche me gabriele un grazie giacomo che ci offre questa bellissima opportunità grazie a voi gabriele stefano carla maria vittorio insomma siete veramente in tanti federico dice perfetto benissimo se qualcun altro dice che si vede barbara dice di sì ok perfetto non ve lo dico perché l'altra volta c'era stato un caldo di connessione e quindi poi non non si vedeva più mi sentite anche perché è giusto importante che mi vediate ma è anche utile che si senta perfetto perfetto ok bene allora facciamo la doverosa premessa barra promessa cioè che quello che vedremo sono delle performance che uno dei portafogli dell'investment club ha ottenuto nel recente passato non è naturalmente garanzia per il futuro quindi non voglio prendervi in giro dicendo se vi scriverete al servizio quello quello che otterrete però sicuramente il portafoglio dinamico che quello più gettonato quello che più anche bilanciato dal 2013 al 2019 ha avuto un 50% di rendimento quindi più o meno l'otto e 50 composto ok allora iniziamo dei contenuti una cosa di anche quando comunicazione di servizio se dovesse andare via la connessione che non si vede più gentilmente ditemelo cliccate sul pulsante di riconnessione così dovreste potervi ricollegare io lascio la chat aperta di modo che ogni tanto ci butto l'occhio se c'è qualcosa me l'ho comunicata vincenzo dice non vede non sento qualcun altro non vede non sente daniele buonasera siamo ancora in fase di convenevoli e quindi non siamo ancora partiti gli altri vedono tutti mi sembra di sì sentono tutti vi ripeto se c'è qualcosa me lo me lo dite ok benissimo benissimo grazie non voglio adesso andare avanti a fare prove tecniche tutta la sera quindi contenuti della serata di cosa parleremo questa sera vedremo perché sembra essere un paradosso ma è difficile ottenere guadagni elevati elevati vuol dire elevati cioè non vuol dire ovviamente guadagni del 20 30 40 per cento l'anno come fanno bitcoin non vuol dire fare operazioni finanziarie avvedute vuol dire avere un rendimento decente come dire accettabile e buono dei propri soldi tenuto conto ovviamente del rischio che corriamo per ottenere quella performance e tenendo conto ovviamente di cosa fanno i mercati però ciò nonostante difficile ottenere guadagni interessanti e vedremo naturalmente perché e poi vedremo un pochino i segreti trucchi che poi non sono trucchi quindi io ve li svero volentieri che hanno permesso di avere quella performance per cui io non sono qua a dirvi iscrivetevi e avrete naturalmente questa performance in futuro però sicuramente direi quello che è stato in passato è senz'altro significativo di una cosa sola che il metodo funziona ok avremo naturalmente uno spazio per le domande ecco qualcuno dice che mi ha perso scusate se io adesso provo a chiudere la webcam ecco ditemi se adesso va anche meglio perché il problema è che ho la cabina della fibra ottica che non è vicinissima e quindi a volte il segnale va ok perfetto ora tengo la webcam spento e vediamo le slide vi dicevo quindi spazio per le domande alla fine io lascerò la chat aperta in modo tale che vi leggo se c'è qualche cosa che non va me lo comunicate interveniamo subito domande potete farle ma io vi risponderò poi tutte dopo ci saranno degli omaggi per tutti anche per chi guarda la registrazione del webinar indifferita ma per voi che sarete stati fino alla fine un omaggio in diretta che chi guarda questa cosa il giorno successivo non non avrà più ora però inizierei io a farvi una domanda così no per rompere il ghiaccio mi sembra che il clima sia buono che le persone siano che divertendo scherzate in chat il che mi fa piacere vediamo qual è il rendimento che avete avuto dei vostri soldi perché è facile no parlare così in generale avrei fatto se avessi fatto parliamo di cose concrete votate in maniera assolutamente anonima e libera poi dopo proverò di nuovo ad accendere la webcam se va un pochino meglio il segnale poi vi dico come sta andando il sondaggio il poll in diretta beh allora intanto vi dico mi fa piacere che c'è una percentuale molto bassa di persone che non sanno calcolare la performance mi fa piacere nel senso che nel videocorso di si warm up che avete ricevuto in tutte le video successivi di approfondimento eccetera avete visto come si calcola la performance il grosso quindi il 48% inferiore al 2% quindi una performance bassissima con i mercati finanziari che salivano qualcun altro invece ha avuto un rendimento compreso tra 5 e 10% quindi queste persone che hanno avuto un guadagno comunque molto basso dico siete nel posto giusto siete nel posto giusto e nel momento giusto per vedere sostanzialmente come fare aumentare i rendimenti mi si chiede se avremo le slide assolutamente sì farà parte del pacchetto di bonus di cui parleremo dopo ma adesso andiamo avanti perché altrimenti trattengo tutta la sera a me fa piacere stare con voi mi diverto a fare i webinar però sostanzialmente dobbiamo andare avanti perché investire e guadagnare sembra essere una missione impossibile perché ci sono alcuni ostacoli che impediscono alle performance di decollare lo abbiamo visto poco fa anche quando i mercati crescono perché attenzione gli ultimi anni sono state degli anni molto positivi per i mercati azionari i mercati finanziari in generale ciò nonostante qualcuno fa fatica a ottenere dei guadagni per colpa di alcuni ostacoli che noi vedremo di mettere a fuoco questa sera e allora la domanda è come faccio io a prescindere da quello che succederà in futuro ad ottenere un guadagno soddisfacente diciamo che io sono qua per aiutarvi ma segreti bancari non si rivolge a tutti segreti bancari leggo brevemente la slide attraverso l'investment club di cui parleremo questa sera si rivolge a persone che hanno un capitale liquido o investito di almeno 100.000 euro per aiutarli a investire in modo semplice indipendente poi vedremo cosa significa ma soprattutto consapevole l'obiettivo è quello di aumentare i rendimenti riducendo i costi, le tasse e i rischi due parole brevemente su di me per dirvi chi sono anche se molti lo sanno già ci sono degli amici che mi seguono da tanti anni e che ringrazio io sono un ex bancario perché prima di cominciare una nuova vita d'adulto diciamo così da quarantenne per essere precisi un po' di anni fa come formatore e come consulente lavoravo in banca poi me ne sono andato perché non ne potevo veramente più c'è stato un periodo grigio in cui ho avviato il sito era ancora legato ai patti di non concorrenza delle banche e ci tengo a precisare che sono andato via io quindi le malalingue dicono che mi hanno cacciato assolutamente no, io ero a tempo indeterminato quindi pensate il grado di frustrazione che avevo raggiunto quindi un ex bancario ma ex veramente perché oggi faccio qualche cos'altro sono un guerriero contro la sopraffazione nel senso che a me non piacciono le ingiustizie non mi piace chi si approfitta degli altri le banche purtroppo lo fanno lo fanno perché il loro obiettivo è vendere dei prodotti finanziari poi vedremo che questo non è l'unico ostacolo che impedisce di avere un rendimento elevato ce ne sono anche altri questo è sicuramente uno importante io sono convinto che sia possibile in tutti i campi della vita soprattutto anche nella finanza il win-win cioè guadagni tu e guadagno io attraverso delle soluzioni indipendenti quello che io vi parlerò sono le cose che ho fatto io con i miei soldi, con quello della mia famiglia e così via quindi non è teoria, sono proprio di portafogli pratici io mi definisco più che non un consulente indipendente un investitore indipendente perché io investo i miei soldi e vi dico cosa faccio questa sera non potremo ovviamente trattare tutto lo scibile umano perché ci sono delle cose che vanno oltre quelli che sono gli obiettivi del nostro webinar anzitutto la formazione questa sera noi parleremo di consulenza parleremo di come fare per ottenere dei risultati quindi se il tuo obiettivo è quello di imparare delle cose imparare una formazione ecco direi che questa sera non sei nel posto giusto quindi sei scusato se te ne vai sostanzialmente fermo restando che se resti ovviamente mi fa molto piacere non sono qui per dare consiglio a tantum sul futuro andamento dei mercati ve lo dico perché evitate poi chiedermi cosa pensi dell'oro, del petrolio, della Netflix, dell'Enel cosa succederà ai tassi questo tipo di domande naturalmente non rispondo ma perché non so cosa succederà i nostri portafogli vengono implementati secondo una logica che non si basa sulle previsioni ma su base su cosa sappiamo di non sapere e ciò nonostante otteniamo lo stesso dei rendimenti decisamente buoni vediamo tre motivi per cui per molti di voi mi fa piacere perché l'abbiate detto nel sondaggio avere un guadagno dell'8,5% annuo è stata una fatica di Sissifo questo eroe greco che spinge una pietra lungo la montagna che poi li rotola di nuovo addosso anzitutto c'è un conflitto di interesse a monte di tutta la faccenda e questo conflitto di interesse di cui vi accennerò brevemente crea naturalmente dei problemi ecco scusate magari metto solo un attimo la chat nascosta perché altrimenti poi voi state lì a leggere le chat e non ascoltate quello che dico io che non voglio essere presuntuoso ma è importante perché i messaggi in chat vi li leggo io poi alla fine quindi conflitto di interesse il primo ostacolo da superare abbiamo parlato di ostacoli ce n'è un secondo che è l'illusione ottica di cui parleremo quindi un problema abbastanza importante così importante che ne ha parlato anche la consob e l'abbandono precoce di una strategia perché le persone tendono a saltare da un metodo che pensano essere miracoloso ad un altro la cosa interessante è che i consulenti bancari oggi si chiamano consulenti abilitati all'offerta fuori sede e il fatto che questi come i dipendenti bancari sono intrappolati fra due aspetti il mandato fiduciario e il budget di vendita perché? perché il mandato fiduciario richiede equità equità vuol dire che win win guadagni guadagno entrambi entrambe le cose devono viaggiare insieme i budget invece necessitano di parzialità la cosa è veramente importante perché? perché il budget di vendita è un qualche cosa che richiede che voi in qualche modo per virgolette perdiate affinché l'intermediario guadagni e tra questi due aspetti ovviamente l'intermediario privilegia il budget e quindi viene meno mandato fiduciario ecco il conflitto di interesse poi abbiamo l'illusione del guadagno assoluto questa è un'illusione ottica i due bastoncini sono assolutamente identici ma quello di sinistra appare più lungo di quello di destra qual è l'illusione? dove sfocia l'illusione del guadagno assoluto? nella percentuale variabile di azioni cioè le persone vorrebbero che fosse il consulente dire loro quando rischiare senza avere nessun paletto quindi azioni da 0-100 perché sei tu che devi dirmi quando andare a fare delle operazioni il problema dove sta? e che naturalmente tutto questo crea dei problemi seri perché? perché chi ti dice lascia fare a me in maniera abbastanza autonoma ti vende la sua capacità di prevedere cosa succede ai mercati ma questo non è possibile non è proprio umanamente non è proprio fisicamente possibile e attenzione perché in questa trappola qui cioè di vendere la capacità di farvi guadagnare ci sono anche purtroppo i consulenti indipendenti per cui bisogna fare un po' attenzione indipendenza non vuol dire necessariamente che tutto fili per il verso giusto e poi c'è l'abbandono precoce ho utilizzato questa immagine della palestra perché non serve a nulla avere una scheda con gli esercizi da fare se poi voi non fate quegli esercizi non ottenete risultati sul vostro corpo come sui vostri investimenti quindi non basta avere un buon metodo di investimento questo ce l'hanno in tanti forse in più di quanto credete e ce l'avete anche voi questo metodo magari magari non sofisticato come il mio ok? però comunque un metodo sicuramente ce l'avete e funziona anche bene basta che compriate un portafoglio diversificato e lo teniate avete già fatto meglio del 50% anzi del 90% degli investitori italiani il problema è che la gente abbandona prima il discorso dov'è? è che se voi partite dall'idea che ci sia qualcuno che sappia cosa succede nel futuro che sappia dirvi quando stare al 100% di azioni o al 10% o al 0% partite da una promessa fuorviante e quindi quando vedrete che le promesse non sono mantenute ovviamente non seguirete più le indicazioni abbandonate il percorso e naturalmente siete assolutamente insoddisfatti questo è una cosa che capita sempre io non so tra di voi quanti hanno provato diversi servizi di consulenza io vi dico sulla mia esperienza l'investment club poi ne parleremo c'è dal 2014 ci sono delle persone che sono andate e tornate perché nel frattempo pensavano di sperimentare qualche cos'altro lo hanno fatto e poi sono tornati indietro perché si erano accorti che qualcosa non funzionava neanche dall'altra parte ma poi in realtà il problema è che non seguivano un metodo fino in fondo quindi l'investment club è un servizio di consulenza anzitutto che ti aiuta a investire mettendo insieme due elementi l'elemento freddo diciamo del metodo ma supportato dal calore umano questo secondo me è fondamentale perché voi come vi dicevo per ottenere i risultati dovete avere sì un buon metodo quindi una buona ricetta ma dovete anche avere la capacità di seguire la ricetta e siccome seguire le ricette non è facile perché se volete ottenere risultati superiori alla media dovete fare cosa la media non fa avete bisogno di una persona umana in carne e ossa che vi guidi e vi aiuti perché altrimenti torniamo indietro di due o tre slide con quella ragazza graziosa che faceva gli esercizi se voi non fate gli esercizi potete avere il personal trainer migliore del mondo ma i risultati non arrivano Steve Jobs diceva che noi siamo nell'era post computer perché in effetti molti di voi l'han scritto prima in chat stanno seguendo da cellulare stanno seguendo da tablet e così via io credo che noi siamo nell'era post robo-advisor i robo-advisor sono questi consulenti automatizzati che propongono di portafogli che li ottimizzano e così via però senza la seconda metà della mela cioè senza la possibilità concretamente di operare e di avere una persona che vi segue e vi dice che cosa fare il robo-advisor non funziona ecco perché si sta tornando un pochino indietro l'investment club vuole essere un mix tra la consulenza diciamo tradizionale dove uno ci mette un po' del suo diciamo così e il robo-advisor il robo-advisor lo utilizziamo è un metodo freddo un metodo statistico che noi abbiamo testato da diversi anni io lo uso da tanto però poi c'è una persona umana che vi dice che cosa fare la prima cosa da fare per ottenere guadagni superiori con qualunque strada è quella di essere consapevoli qualcuno prima diceva non basta sapere quanto hai guadagnato devi anche sapere quanto hai rischiato e questa è una realtà assolutamente incontrovertibile e fondamentale quindi l'investment club permette una personalizzazione nel senso che non c'è un portafoglio solo non c'è un profilo di investimento solo ce ne sono quattro quattro perché? perché riusciamo ad avere senza esagerare perché averne sette, otto profili qualcuno addirittura ne ha aggiunto un settimo, un ottavo secondo me diventa forviante perché poi dopo non riuscite più a seguire se vogliamo qualsiasi scelta dovete fare è importante avere delle possibilità è fuori di dubbio ma se le possibilità aumentano in modo eccessivo si crea confusione quattro secondo me è un numero sufficiente perché si va da un profilo conservativo a un profilo più aggressivo quindi la personalizzazione consiste nel poter scegliere il profilo che preferite in base a quanto siete disposti a rischiare questo non lo potete sapere dopo lo dovete decidere prima perché il mercato il futuro è incerto per tutti per questa ragione ogni profilo ha una quota di investimento una quota azionaria che può oscillare tra un minimo e un massimo ve l'ho detto prima nella vostra testa io lo capisco voi vorreste che la quota azionaria oscillasse da 0 a 100 ma non è possibile quello io potrei farlo se sapessi cosa capiterà in futuro siccome il mercato può andare dove vuole e i nostri modelli non sono perfetti il rischio qual è? è che il mercato parte quando io ho scaricato le azioni il risultato non fate la performance al contrario il mercato crolla per esempio e io ho troppe azioni in portafoglio quindi io non posso in qualche modo avere troppe azioni rispetto a quello che è il vostro profilo e non posso neanche averne troppe poche quindi se voi avete un profilo aggressivo poi lo vedremo una parte azionaria importante ci sarà sempre un 30 un 40% ci sarà sempre potrà andare adesso dico delle cifre tra un 50 e un 80% la parte prudente cosa dice cosa significa la parte cosa come si traduce questo nella parte prudente e qualcuno mi dice se si può vedere la webcam io provo ad accenderla se poi c'è qualche problema di connessione la rispengo e mi dite ecco ok datemi un feedback che intanto continuo a parlare se si vede la webcam vi dicevo se ad esempio voi avete un profilo prudente vuol dire che una parte di azioni non si può oltre una certa quota di azioni non si va comunque perché? perché voi non volete rischiare di più io non so cosa può succedere ecco perché è importante la consapevolezza per evitare delle cavolate ah bene ok perfetto vedete che importante questa tenere la chat aperta così in tempo reale io aggiusto a seconda di come vanno le cose vi chiedo scusa per la connessione ma purtroppo ecco non posso agire perché il mio studio è lontano dalla cabina della fibra ottica quindi si perde un po' di segnale parliamo un attimo del supporto umano scusate anche l'abbigliamento mi fa parecchio caldo quindi ho la camicia d'ordinanza ma non ho la cravatta vi chiedo scusa allora il supporto umano significa un portfolio manager tra virgolette un analista un cliente quindi un rapporto one to one questo è fondamentale perché con la persona che tra l'altro stanno abbastanza lungo in azienda perché poi per fortuna il mio turnover è abbastanza basso c'è un rapporto anche di fiducia a volte i clienti ci raccontano pure i fatti loro magari anche uno addirittura mi ricordo carinissimo mi è mai invitato a trascorrere la vacanza a casa sua in Toscana perché si crea un rapporto poi umano di fiducia di fiducia reciproca qualcosa fondamentale poi l'analista che cosa fa? una volta al mese fa un'analisi del portafoglio una volta al mese è un tempo sufficiente per avere dei risultati di lungo periodo Giacomo dice la vita non fa il mondo è vero è vero perché come vedremo l'investment club si basa su una binomio strategia barra ottimizzazione ma non è trading quindi non ha senso che ci mettiamo giorno per giorno a fare delle operazioni sui portafogli una volta al mese li facciamo e vediamo poi se c'è naturalmente qualcosa di molto urgente tipo facendo le corna crollano le torri gemelle o qualcosa di simile non voglio fare nomi perché poi magari capita davvero interveniamo prima però una volta al mese secondo me è un tempo sufficiente per non cadere nel pericolo di un trading eccessivo supporto umano vuol dire che noi diamo un'indicazione chiara e precisa di cosa comprare quindi avrete un tabulato con codice ISIN il nome del prodotto azione etf obbligazione o quello che è quantità e controvalore indicativo di modo che voi sappiate esattamente cosa fare cioè l'obiettivo non è che uno diventi pazzo a capire poi come tradurre in pratica le operatività deve farlo in modo semplice vi diciamo anche il perché perché è vero che chi fa il percorso di consulenza non è interessato più di tanto a capire magari qualcuno neanche gli piace la finanza per carità però è importante essere consapevoli cioè il concetto di base è che se io non capisco non faccio quindi vi spieghiamo proprio per evitare che voi non capiate un tabulato freddo assettico non eseguiti gli ordini li eseguiti in parte e poi naturalmente non ottenete dei risultati sperati supporto umano vuol dire aiuto a tenere rotta che vuol dire che i miei analisti sono un po' di rompiballe nel senso buono perché li formo io quindi sono io il primo rompiballe ovvero scrivono i clienti gli dicono le operazioni e poi non finisce lì gli chiedono perché hai eseguito l'operazione e perché non l'hai eseguita perché se tu non segui le mie indicazioni c'è un problema magari un problema di fiducia parliamone magari un problema di percezione parliamone però superati questi ostacoli poi si va avanti questa è una fase che di solito capita all'inizio dopodiché si va avanti abbastanza spediti nel senso che all'inizio uno deve conoscersi per cui ci sta che ci sia un po' di come dire di abboccamento un po' di fidanzamento diciamo così poi dopo le persone si seguono i nostri consigli alla ceca ma all'inizio direi che comunque avere una persona che ti segue passo passo è sicuramente molto importante noi non siamo un'azienda grande l'azienda che io ho fondato che ha il marchio segreti bancari si chiama BERT Consulting per chi interessa BERT una località della Val di Susa a cui sono particolarmente affezionato siamo in sé in tutto quindi non siamo sicuramente persone molto grandi siamo una sorta di boutique cioè piccolini ma orientati ai clienti i clienti che danno valore a questa cosa qua quindi cosa significa? anzitutto nessuna piattaforma amica per noi sarebbe molto più semplice anche per semplificare tutta la reportistica eccetera fare un accordo con una banca o con una sim e dire aprite il conto lì e poi fate le operazioni con loro non lo facciamo questo per voi sarebbe una piccola scomodità perché dovrete comunicarci il portafoglio come vi dirò adesso però per noi è un grande valore perché veramente significa che noi siamo slegati da tutto e da tutti noi cosa facciamo sostanzialmente prendiamo i soldi da voi come fee per il servizio non abbiamo nessun legame con nessuna piattaforma amica io quando qualcuno mi chiede che banca utilizzi lo dico volentieri ma sempre sotto voce perché non voglio far passare il messaggio che io abbia interessi con qualche banca i video messaggi sono video messaggi in cui ho il coraggio di mettere la faccia quindi non sono impersonali non sono dei slide fredde oppure dei montaggi fighissimi però poco autentici metto la faccia molte volte voi lo vedrete sono delle slide perché con le slide diventa più semplice fare capire però insomma la faccia la vedete la voce la sentite e sono sempre io che si occupa di queste cose qua perché ci tengo proprio a mettere la faccia in quello che faccio scusate il gioco di parole elaboriamo un report interno che si chiama il faro finanziario che a mio avviso è molto più bello di tanti delle centinaia di report che ho visto nelle case di investimento quando lavoravo in banca nelle due banche in cui ho lavorato arrivava di tutto arrivava BlackRock Morgan Stanley Carmignac Schröder tutto quello che volete voi ma non c'era la qualità che c'è nel faro finanziario perché Pier Giorgio Fontanella che è responsabile dell'ufficio analisi dei mercati è una persona di grande competenza e di una grandissima passione e si vede in quello che fa poi c'è un webinar da vivo con un'interazione in diretta quindi un webinar che farà Pier Giorgio una volta al mese dove c'è del contenuto ma l'idea fondamentale è quella di fare domande cioè quella di essere a disposizione per gran parte della serata per rispondere alle vostre domande domande ovviamente private come adesso quindi non si vede non si legge sostanzialmente chi le fa la persona fa la domanda in modo riservato l'analista la legge e dà la risposta senza naturalmente dare informazioni riconoscibili quindi non si dice mai il nome e il cognome solo il nome come farò io anche questa sera vediamo allora brevemente qual è il flusso operativo dell'investment club cosa succede allora anzitutto quando voi iscrivete formalizzate l'iscrizione banalmente in modo molto prosaico pagate la quota di iscrizione che è una quota annuale annuale perché se fosse troppo breve non avreste neanche la possibilità sostanzialmente di valutare servizi non essendo un servizio di trading passano già 3-4 mesi per iniziare a mettere un po' le mani in pasta al portafoglio anche perché c'è un rispetto di tutto quello che avete fatto prima non viene azzerato dalla sera alla mattina e quindi fare un abbonamento di 3 mesi 4 mesi 5 mesi non avrebbe molto senso formalizzate l'iscrizione quindi fate il bonifico compilate un paio di moduli giusto per essere a norma e poi cosa succede che avete accesso ad un'area riservata quindi prego di fare attenzione perché si crea un po' di casino ovvero l'area riservata è fatta su una piattaforma affidabile che io utilizzo anche per la formazione ed è pensata per la formazione stessa quindi le persone si collegano e pensano di fare un corso niente di più sbagliato nell'area riservata avete tutti i contenuti di cui vi ho parlato prima e di cui vi parlerò fra un istante dell'investment club quello lo avete subito quindi avete già subito un accesso ad uno storico poi vi farò dare anche uno sguardo a queste cose nell'area riservata tra le altre cose trovate il Clara chiede come fare come fare iscriversi poi ve lo dirò non lo vedete pazienza un attimino troverete anche il manuale operativo il manuale operativo vi spiega quali sono i profili di investimento se avete difficoltà a scegliere il vostro c'è un questionario che non è una profilazione un questionario semplicemente che vi aiuta a capire quale dei quattro profili può fare il caso vostro in base a quello che naturalmente siete disposti a rischiare comunicate il profilo al vostro analista di riferimento che si prenderà a cuore di voi e di lì inizia l'operatività cosa facciamo? vi chiederemo di mandarci il vostro portafoglio attuale per vedere come iniziare a rassettarlo come vi dicevo è un servizio rispettoso di quello che avete fatto quindi non vi diciamo vendi tutto e seguimi ma andiamo a vedere subito quali sono gli squilibri che ci sono tra il portafoglio o profilo che avete scelto e il profilo che avete già tenuto conto della liquidità ovviamente se uno ha tutto liquido il discorso è molto più semplice però cosa succede? di solito che una persona si iscrive sceglie un profilo e ha un portafoglio che è completamente diverso da quello previsto dal profilo volete un esempio? profilo prudente investimento molto azionario molto aggressivo questo va ridotto come minimo a che cosa? al massimo della quota azionaria prevista per quel profilo perché se le cose vanno bene siamo tutti contenti se le cose vanno male sopportate una perdita che non siete disposti a tollerare perché il profilo non è quello che voi avete al contrario se voi scegliete un profilo aggressivo e il vostro portafoglio è prudente automaticamente la quota azionaria viene aumentata magari a livello minimo ma viene aumentata perché il rischio in questo caso è di non fare la performance se io voglio rischiare devo rischiare poi magari rischio il minimo per quel determinato profilo però non ha senso che io non abbia nessun rischio in portafoglio perché se il mercato sale come è successo oggi dopo che c'è stato l'accordo con il G20 quantomeno di sospendere le sanzioni tra la Cina i Dazi e queste robe qui il mercato parte e voi non fate la performance vediamo come funziona l'investment club nelle sue tre forme abbiamo il club gold il club platinum e il club excellence vediamoli uno per uno che cosa fa l'investment club gold? Stefano dice che strumenti vengono utilizzati e di questo ne parliamo il club gold anzitutto diciamo questo che tutti tre i profili gold, platinum ed excellence hanno tutti la stessa struttura quindi quattro profili tra cui scegliere ma sono rivolti a persone con capitali diversi hanno caratteristiche interne diverse la carrozzeria è la stessa il motore cambia il club gold è pensato per persone che hanno patrimoni tra i 100 e i 200 mila euro al di sotto non ha molto senso perché naturalmente non è questo il target difatti voi siete qua perché avete risposto a un'inserzione di partecipare a questa serata per appunto persone che hanno più di 100 mila euro utilizziamo solo ETF per che motivo? perché non voglio essere offensivo nei confronti di nessuno ci mancherebbe altro i soldi sono importantissimi e noi che li abbiamo sudati lo sappiamo però un capitale di 100 barra 200 mila euro non è un capitale così che richiede e può reggere una certa diversificazione quindi le ETF secondo me sono sufficienti i patrimoni vedete sono un po' come i figli finché sono piccoli hanno esigenze piccole quando crescono hanno esigenze maggiori il fatto di usare ETF vuol dire che evitiamo i costi dei fondi i fondi naturalmente che non sono compresi nei portafogli nel tempo in modo ecologico verranno venduti perché poi i portafogli verranno lineati a quello del profilo scelto anche come gli strumenti ma usiamo solo ETF in questo caso qua come vi dicevo quattro profili tra cui scegliere quello più adatto lo potete scegliere leggendo il manuale vedendo qual è la quota azionaria minima massima entro cui ci muoviamo in base alle vostre necessità oppure rispondendo a un semplice questionario avrete un contatto via email con una persona con un consulente con un analista dedicato che vi risponde normalmente vi sentite una volta al mese anche di più se necessario non scrivetelici tutti i giorni perché appunto non è nostra intenzione fare trading quindi se voi ci scrivete dopo due settimane o una settimana o due giorni insomma vi diciamo non è cambiato nulla anche perché l'investment club c'è dal 2014 e questa è una cosa a cui ci tengo molto perché oggi i consulenti spuntano come i funghi e altrettanto rapidamente spariscono quindi il fatto che noi siamo qua segreti bancari c'è dal primo di ottobre del del 2010 l'investment club da settembre del 2014 i tempi quindi ho un po' di storico anche di esperienza del servizio i tempi di adeguamento sono un pochino lenti le persone fanno un altro mestiere non sono sempre così pronte quindi fare degli alert anche inframensivi non avrebbe molto senso poi ci sarà il faro finanziario che è questo report in pdf che poi voi vedete all'interno dell'area riservata e avete lo storico degli ultimi 12 faro finanziario così chi vuole può andare a leggere io vi ho messo per primi l'ultimo quello più aggiornato poi via via trovate gli altri il video messaggio mensile che è una cosa che faccio io ecco stanno arrivando le domande mi chiedo scusa vado avanti e poi rispondo tutti alla fine come vi avevo detto ma voi sentitevi liberi di fare le domande che volete quando vengono in mente così non vi scappano dalla testa Investment Club invece Platinum il concetto è il Platinum si rivolge a persone che hanno un patrimonio fra i 2 e i 200 mila euro questa è la soglia ideale dato che il patrimonio è più grande c'è un'esigenza in più che può essere quella di recuperare le minusvalenze c'è quella anche di volere scegliere qualche singolo titolo è un patrimonio già di 3 3,50 2,50 insomma con la cifra lì naturalmente scusate sto leggendo una domanda mi sono fatto distrarre vedete perché voglio chiudere la chat dicevo quindi l'esigenza è quella di avere ETF più singoli titoli non sempre adesso abbiamo dei titoli azionari obbligazioni no perché il mercato è tale per cui non ha senso andare a inserire delle singole obbligazioni ma in futuro naturalmente potremo andare a inserire anche qua abbiamo 4 profili tra cui scegliere quello più adatto c'è ovviamente il contatto via mail un'email dedicata con una persona che vi segue che tendenzialmente resterà sempre quella nel tempo salvo che ovviamente non capiti qualche cosa di serio ci sarà il webinar mensile domande e risposte in diretta quindi come questa sera Pier Giorgio Fontanella che è responsabile dell'ufficio analisi dei mercati vi racconterà delle cose cercando di non naturalmente creare un duplicato con le altre forme di comunicazione e poi starà in stand by aspettare le vostre domande per rispondervi in diretta ovviamente nella totale riservatezza non vi chiediamo di parlare al telefono perché ovviamente uno può anche non mancata fastidio quindi scriviamo scrivete e noi vi rispondiamo c'è ovviamente il faro finanziario come giusto che sia questo report che vi dice anche un po' come stanno andando i portafogli vi dà delle chicche in più poi ve lo farò vedere e il video messaggio mensile che registro io a volte è un video registrato con la telecamera molto più spesso è uno slideshow con delle dati delle analisi cosa facciamo nel faro abbiamo detto parliamo di portafogli quindi della loro performance e del loro andamento storico nel video messaggio parliamo di cosa verosimilmente faremo il mese successivo sono indicazioni ovviamente di massima che poi l'analista tradurrà nel caso concreto cliente per cliente quindi vi dirà esattamente che cosa fare e poi abbiamo l'excellence l'excellence è pensato per persone che hanno patrimoni superiori a 500 mila euro ovviamente ci sono sia l'etf sia singoli titoli più qualche operazione di trading di lungo respiro nel senso che non è un trading intraday però ogni tanto mettiamo delle come dire delle operazioni magari sulle singole azioni per aumentare un pochino il rendimento c'è un report personalizzato nel senso che qui voi ci comunicate non solo il vostro portafoglio ma anche le operazioni che fate quindi la data la quantità comprata venduta noi le importiamo in un software che vi fa un report in pdf dove vedete proprio l'andamento del vostro portafoglio tenuto conto dei dividendi tenuto conto di tutto il drawdown sortino sharp tutte queste cose qui ed è carino perché uno si abitua ad avere la visione di insieme quindi non vede il portafoglio come una somma di pezzi ma come un tutt'uno il contatto di email è fatto con il responsabile dell'ufficio analisi e mercati di segreti bancari quindi non con un junior ma con un senior un senior ovviamente di un certo peso una volta al mese ci sarà anche un contatto one to one al telefono o su skype quindi parlate direttamente con una persona per cui è più approfondito rispetto al webinar non che il webinar non sia bello il webinar è importante però dipende anche lì c'è chi ha un patrimonio più piccolo o chi non ha l'esigenza perché uno può anche fare un platinum con 3 milioni di euro e nessuno lo impedisce per carità del cielo c'è invece chi ha piacere di parlare con uno avrò un conto è stare un'ora e mezza in un webinar in collegamento telefonico come adesso dove uno risponde alle domande e poi dopo sostanzialmente altro conto è invece avere una persona che si dedica un'ora a te c'è ovviamente il webinar mensile perché è un qualcosa in più ogni club include sempre il precedente e poi c'è ovviamente il faro finanziario ecco dimenticavo ultimo ma non il meno importante il video messaggio mensile che tra l'altro piace l'abbiamo rivisto anche grazie i feedback degli iscritti perché appunto parliamo un po' di quello che ci aspettiamo è una sorta di preavviso nel senso che poi magari facciamo il contrario se le cose cambiano perché ormai è un mondo talmente fluido che non si può fare diversamente però sostanzialmente direi diamo delle indicazioni in modo che uno sia già psicologicamente preparato cosa faremo cosa non faremo al mese successivo questo è il riassunto il gold costa 697 euro all'anno più IVA il platinum 1299 più IVA e l'excellence 2699 più IVA quindi per capirci se siete di privati quindi non potete scaricarlo come servizio amministrativo finanziario che è importante per chi ha la partita IVA il gold costa 850 euro il platinum 1585 e l'excellence 3293 quindi voi capite che è un costo assolutamente equo e sostenibile se il capitale ha una certa importanza io qua vi ho calcolato sostanzialmente l'incidenza ecco se uno mediamente questi sono dati reali ha il 150 mila euro sul gold costa lo 0,57 lo 0,60 poi se uno ha 100 mila giusti allora diventa lo 0,80 0,85 però comunque è al di sotto ovviamente dell'1% uno potrebbe obiettare qualcuno sono sicuro lo farà ci sono le tasse sì lo 0,20 ma quello ce l'avete sia che fate i fondi che facciate i BTP che facciate gli ETF o qualsiasi altra cosa il platinum se uno ha già tipo 350 mila euro costa lo 0,45 all'anno quindi in termini assoluti può tra virgolette spaventare diciamo così in termini relativi assolutamente no l'excellence ha un costo appunto circa sono 600 mila euro dello 0,55 se poi uno ha un milione o direttura di più viene a fare lo 0,30 lo 0,30% all'anno quindi partendo già con un situazione di costi molto vantaggiosa è facile ottenere delle performance noi siamo qua per guadagnare è inutile che ve lo nasconda perché è in realtà palese ma ricordate win win cioè dovete guadagnare anzitutto voi ovviamente questo a seconda di come vanno i mercati come vi dicevo poi rispondo alle domande dopodiché vi do ancora del contenuto quindi non scappate se vi scrivete entro il 15 luglio avrete uno sconto a vita del 10% quindi vuol dire 85 euro sul gold 150 160 su platinum e 320 sull'excel questo per tutta la durata dell'abbonamento noi abbiamo clienti che sono con noi del 2014 quindi voi pensate quanto risparmiereste nel corso del tempo come fare a iscrivervi potete andare quando volete su segretibancari.com slash investment club app sta per apertura perché adesso per gli altri il servizio è chiuso investment club app adesso mi fermo un attimino e vado a vedere le domande allora usti me ne sono persi proprio tante dunque ehm ehm Paolo dice scegliere solo ETF reduttivo oggi stanno incrementando quelli smart Smart Paolo forse non hai capito ma mi sono spiegato male ma gli ETF smart sono ETF quindi non è assolutamente riduttivo poi se uno vuole investire in singoli titoli può fare Platinum e naturalmente i singoli titoli sempre Stefano con che periodicità vengono rivisti i portafogli con periodicità mensile ogni mese noi cosa facciamo allineiamo ehm il portafoglio a quello che è il portafoglio previsto per il vostro profilo nei primi mesi lo facciamo in modo graduale perché ci saranno dei squilibri molto forti allora se avete liquidità come si dice qui a Babin Parei diciamo cosa fare tanti saluti se uno ha un portafoglio già costruito non lo smontiamo dal mese al mese successivo iniziamo poco per volta a vendere delle cose a comprare degli altri l'obiettivo è quello dopo 3-4 mesi che il vostro portafoglio sia allineato al portafoglio obiettivo che poi cambia nel tempo quindi l'allineamento dura fin tanto che il portafoglio non viene cambiato quando il portafoglio sottostante cambia ovviamente si rimette in gioco tutto e si fanno ulteriori cambiamenti quindi mensile Massimo dice il patrimonio di tenere il capitale destinato al profilo oppure pur avendo 100.000 euro posso destinare una parte Massimo puoi fare quello che vuoi non c'è nessun limite 100.000 euro ha senso perché noi facciamo una diversificazione basata su quell'importo lì e perché il costo è tarato per un servizio di un certo tipo l'investment club costa di più rispetto a altri servizi col vantaggio che non è scalabile nel senso che voi pagate una fissa poi se avete tanti soldi no invece se fate la consulenza indipendente pagate percentuale ma potete fare cosa volete quindi non è un problema nostro il consiglio che vi do è magari pensateci un po' di più prima di sottoscrivere il servizio ma se lo scegliete poi sfruttatelo Maurizio quando investment club quando investitore libero sono due cose completamente diverse investitore libero è la formazione io voglio fare un corso di cucina voglio imparare a cucinare quindi andare in cucina accendere i fornelli investitore questo investitore libero è il percorso della formazione consulenza io voglio sedermi e mangiare a me non mi interessa la finanza non ho tempo non ho voglia ho i figli da guardare non siano voglio che qualcuno mi dica cosa fare quindi cosa comprare e cosa vendere quindi rispetto a investitore libero stai meno in cucina ma mangi il piatto senza doverlo cucinare Luca chiede quanti ETF utilizzate il numero variabile si va da 7 8 a una dozzina dipende anche dal momento storico perché a volte ne inseriamo un po' di più a volte ne togliamo alcuni dipende poi dal contesto e anche dal portafoglio però direi che almeno 8 ci sono sempre Mauro e Giulio sono concentrati sulle minusvalenze loro interesse uno mi chiede se si possono recuperare quegli ETF no poi voglio dirvi anche una cosa se mi ricordate sulle minusvalenze Giulio mi interessa quello di recuperare minusvalenze mi potete aiutare mi nel senso che il scusate ho perso un attimo ecco bello della diretta perché un attimino non bello della diretta che poi uno si perde anche ecco minusvalenze direi di no nel senso che l'obiettivo non è recuperare le minus fate attenzione se l'obiettivo diventa recuperare le minus a volte uno fa delle scelte azzardate per mettere una pezza un tampone rischia poi di fare delle scelte troppo pericolose quindi la fiscalità è importante ma deve essere sempre dopo il profilo di investimento non fate mai operazioni per recuperare gli investimenti la psicologia insegna che quando noi siamo in perdita nel tentativo di recuperare quella perdita che ci fa molto male diventiamo ancora più propensi al rischio quindi diventa pericoloso Mauro chiede perché non investite in obbligazioni gli etf hanno costi di gestione annui sì li hanno 0,16 0,20 ti direi Mauro vai a chiedere a questa cosa chi ha comprato l'obbligazione a staldi chi ha comprato le carigie e così via nel senso che le obbligazioni hanno un rischio emittente oggi come oggi il rischio emittente è molto concentrato lo vedete dagli spread che sono bassi tradotto in pane e salame come si dice qua investire in obbligazioni rende poco rispetto ai rischi che correte quindi il singolo titolo presenta un rischio eccessivo questo vale secondo me per alcuni titoli di stato vale maggior ragione per le singole obbligazioni quindi bisogna muoversi con cautela nel titolo di stato qualche rischio in più possiamo occorrerlo nell'obbligazione è meglio diversificare così siamo sicuri che se salta anche qualcuno non capita nulla chiede Stefano questi portafogli vengono seguiti con denaro reale anche da parte vostra certo assolutamente sì questi sono i portafogli tra l'altro anche della mia famiglia nel senso che non ha senso che io vi dica delle cose e ne faccia delle altre non spaventatevi non abbiate paura non siete sospettosi gli ETF sono totalmente liquidi io non sono Warren Buffett per cui non è che se io o i miei uomini comprano l'ETF del vostro portafoglio questo va a creare poi lo sleepage o comunque il market impact Donalto chiede patrimonio se intende solo patrimonio finanziario anche gli immobili non solo quello finanziario gli immobili non ci interessano scusate io salto su per vedere se c'è qualcosa se c'è qualche segnalazione di servizio tipo che non si sente più ma direi di no Federico la scelta di non utilizzare fondi è dovuta a una questione di costi ci sono gestori che superano l'indice di riferimento sì in realtà guarda i gestori che superano l'indice non persistono su 7, 8, 10 anni non c'è nessun gestore che riesce a battere il benchmark tranne Ray Dalio piuttosto che che ne so Dave Swanson questa gente qua Warren Buffett eccetera c'era Peter Lynch però sono pochissimi voi prendete qualsiasi fondo volete anche quelli molto blasonati 5 stelle che vanno alla grande poi capita qualcosa che li o salta fuori qualche inghippo come i fondi H2O oppure ho la soluzione 6 del San Paolo di qualche anno fa che su cui viene scaricata la porcheria che Vittorio Grimaldi gestore toglieva dal Fondo Azionario Italia per farlo andare bene oppure comunque fisiologico che c'è un ritorno in media per cui non si batte il benchmark nel lungo andare dunque Stefano sono disponibili i report di tutti i portafogli ne parlerei stasera sì se voi andate su questo link segretibancari.com slash investment club ap guardatelo con attenzione ci sono le performance e anche la rischiosità voi sappiate questo che più o meno il profilo conservativo che è quello meno rischioso ha una volatilità del 2% 3% annuo quindi quasi zero quello determinato che è quello molto più rischioso ha una volatilità circa dell'8% il mercato azionario mondiale ha una volatilità del 20% questo per darvi un'idea ETF con dividendo o senza e perché dipende tendenzialmente privilegiamo gli ETF d'accumulazione perché fiscalmente sono più efficaci quindi non pagate le tasse ogni volta che si stacca il dividendo e il reinvestimento è automatico e dall'ordo della tassa quindi se ho 100 euro di utile questi 100 euro vengono rinvestiti se un ETF invece che stacca il dividendo 100 euro di utile ne investo 74 perché 26 vanno allo Zio Tom di Roma Mauro in che percentuale le persone che hanno iniziato sono rimaste con voi guarda Mauro io direi circa un 50 barra 60% cioè è successa questa cosa carina la dico proprio per massima trasparenza c'è uno scoglio al primo anno nel senso che al primo anno più o meno un 40 30 35% quando i mercati vanno male anche un 40 di persone se ne va perché a volte per colpa anche mia che non ho spiegato bene il servizio la gente si aspetta chissà che cosa non segui i portafogli e così via superato il primo anno resta dicevo noi abbiamo clienti che sono da settembre del 2014 con noi mi dispiace non poter fare parlare uno è un tale Giovanni medico ospedaliero di Ancona mi sembra o Senigallia quella zona lì che ogni tanto scrive su segreti bancari ce ne sono tanti altri per questioni di riservatezza non posso fare i nomi comunque se vedete ci sono persone che ci hanno fidato tra virgolette affidato perché io i soldi non li toccano non li vedo però so quanti clienti quanti soldi hanno i clienti perché ce lo dicono diversi milioni di euro tutto per noi virtuale io non so nulla nel senso che i soldi stanno a casa vostra e le operazioni le fate con la banca che volete qual è il numero di clienti che gestite sono circa 200 clienti posso mixare chiede Lorenzo due profili all'interno del stesso club no ma anche perché non ha senso perché tu cosa fai se vuoi mixare Lorenzo dimmi se dico una cosa imprecisa metti assieme un profilo aggressivo uno prudente allora scegli un intermedio diventa molto più semplice Stefano per chi ha 30-40 mila euro costerebbe troppo certo difatti questo webinar era dedicato appunto a persone che hanno più di 100 mila euro Gianluca dunque chiede se un portafoglio investitore libero può essere paragonato a quello dynamic investment club no nel senso che su investitore libero io vi ho dato tutto quello che c'è da sapere però non posso darvi l'esperienza l'esperienza è la sensibilità è un qualcosa che abbiamo noi che non riesco a trasmettervi in più perché è fatto investitore libero vuole passare all'investment club c'è tutto il discorso della starvi dietro chi ha fatto investitore libero non ha ottenuto negli anni i risultati che avrebbe potuto perché non ha seguito il sistema non spaventatevi Peter Lynch andate a cercare chi è ve lo dico io è il gestore del Fidelity Magellan dal 77 all'89 in 13 anni ha avuto delle performance non so se del 29 o giù di lì per 100 annuo composto i clienti sono usciti a perdere perché? perché hanno comprato e venduto il fondo quindi se non c'è una persona che ti tira le orecchie e ti porta a correre a correre non vai e questo il vantaggio importante dell'investment club quanto monta il gestito andate su segretibancari.com slash investment club ap e lo trovate naturalmente tutto il portafoglio chiede Stefano ha guadagnato il 52% negli ultimi anni è quello più aggressivo no era quello il cosiddetto dinamico quindi quello centrale Leo domande uno poi vediamo se ce ne sono altre dovete liberarvi asset allocation fatti in modo tradizionale da circa una settimana vedo articoli di questo tenore che ne pensa Leo ti chiedo la cortesia di specificare meglio perché non so bene non ho capito la domanda Francesco altrimenti oltre la spesa abbonamento non sostenere le spese per acquistare l'etf eccetera beh eccetera direi no c'è solo quello poi Francesco il discorso è se non vuoi spendere nulla vai alla posta fai un buono postale qualsiasi cosa tu faccia ha dei costi il problema non è eliminare i costi perché allora non andrà più al ristorante perché costa spegni la luce accendi la candela perché costa il discorso è capire se quei soldi sono giustificati oppure no la mente umana è da volta contorta ci sono persone che vanno a vedere i micragnosi poi guardano il portafoglio hanno un fondo che costa l'1,50% all'anno lo pagano non se ne accorgono quindi attenzione anche a questo discorso qua sempre Stefano a regime quanto incide la movimentazione in etf direi guardate a regime noi faremo penso due o tre operazioni all'anno non ne facciamo tante il grosso ce l'avete nella fase di allineamento poi una volta che il portafoglio è allineato non stiamo sempre a comprare o vendere perché io non sono qua per vendere dei prodotti cioè che voi facciate vi faccia fare 50 operazioni o ve ne faccia fare due io prendo sempre la stessa cifra e voi ottenete lo stesso guadagno quindi non vendiamo la complicazione vendiamo la semplificazione meno operazioni più guadagno siamo contenti tutti Francesco chiede lo sconto a vita del 10% vale anche per i già iscritti no perché i già iscritti hanno lo sconto del 20% anziché il 10% se portano un amico poi vi aggiorneremo anche su questo comunque Francesco se tu ci mangi un email e ci segnali un numerativo di un tuo amico che diventa cliente voi avrete uno sconto anzi no chiedo scusa l'amico al 20% voi avrete mi sembra perché adesso ho 50.000 cose in testa devo guardarlo domani 6 mesi di iscrizione gratis quindi uno sconto ben maggiore ecco Leo bella domanda questa conviene attendere per iscriversi che ci sia uno storno a mercato azionario no voi conoscete la storia del tenente drogo del deserto di Tartari era un personaggio del libro Dino Buzzati che ha vissuto la vita aspettando un attacco che non c'è mai stato lo storno potrà esserci potrà non esserci il momento di investire è sempre oggi cosa dovete fare voi dovete scegliere bene il profilo non in funzione di cosa credete che faccia il mercato in funzione della vostra persona sono una persona prudente scelgo un profilo prudente poi se andrà bene guadagnerò anziché il 6 il 7 potrò guadagnare il 3 il 4% di più di quel 2% che avete guadagnato negli ultimi anni per la vostra stessa missione se sono aggressivo entro in maniera aggressiva poi cosa succede che ovviamente saremo noi a dirti siamo prudenti prudenti cosa vuol dire che in un certo momento per ipotesi tutti i portafogli sono sulla parte azionaria minima quindi la fase di ottimizzazione viene poi dopo Maurizio quali sono le spese medie per l'ITF sono dello 0,50 0,60 voi pensate che un fondo liquidità quindi uno schifosissimo fondo che compra i bot costa lo 0,90% all'anno Paolo perché non vedo le domande perché sono private le leggo io e ve le ripeto Giordano è possibile usufruire da sconto vita nel caso si passasse dall'investment club a quello superiore dicevo Giordano no questo è per i nuovi clienti i clienti iscritti hanno uno sconto in termini di prolungamento gratuito dell'abbonamento se presentano un amico esiste un ETF che investe in modo etico Maurizio è fuori discussione non parliamo di consulenza questa sera comunque ci sono ma dovresti cercare quali Paolo chiede se si possono utilizzare i certificate per recuperare le minusvalenze sa de pan nel senso che si possono utilizzare però i certificate hanno tutta una serie di problemi di liquidità di mancato allineamento col benchmark manca l'arbitraggio tutta una serie di tecnicismi che adesso non sto a raccontarvi per cui li utilizziamo solo quando è il caso Andrea chi ha Camas può passare a Gold nel complesso poco più di 100.000 euro detraendo la cifra sì però non è più lo sconto vita cioè da due l'una o lo sconto o detrai quello che hai già pagato Alessandro mi sono collegato tardi che portafoglio consigli per un patrimonio di 300.000 euro ti consiglio l'investment club Platinum poi ovviamente sta te scegliere il profilo più prudente o quello più aggressivo tra i quattro disponibili sempre Gianni forse ho già risposto in media quanto cambia la composizione nell'anno vi dicevo due o tre operazioni all'anno l'inizio ne faremo tante perché il portafoglio di partenza è squilibrato è diverso rispetto alla rispetto alla come dire alla alla situazione desiderata e poi nel tempo io via lo andiamo ad aggiustare va bene qualsiasi banca qualsiasi conto titoli assolutamente sì fate cosa volete che differenza con Manifarm Alessandro Manifarm è un'azienda fighissima io ho la massima stima di Manifarm però è un'azienda grande alcuni piace alcuni no alcuni vogliono andare nel negozio sotto casa perché gli piace parlare col droghiere altri vanno nel supermercato anonimo quale meglio dipende un po' da te è meglio quello che ti si confa di più perché se tu scegli la cosa sbagliata poi non segui le indicazioni come sempre non segui il metodo se ti piace la mia faccia dici questo qua mi sembra mi ispiri fiducia allora forse l'investment club è più a tua misura perché qua sei in una boutique io ti parlo del mio studio lo stesso studio che vedi anche nei video su youtube perché questo è non c'è una struttura di 150 dipendenti con tre sedi se invece ti senti più tranquillo ad avere una struttura importante alle spalle che ha la sede a Londra fighissima che ha vinto l'award delle start up l'anno scorso quando era eccetera eccetera ma Nifarm è quello più ideale sono ETF che seguono diversi mercati nel breve e lungo termine chiede Davide sì entrambe le cose cioè il discorso è proprio quello di dire strategia più tattica quindi strategia profilo tattica ottimizzazione l'indirizzo internet e l'ora scrivetelo bene minuscolo segretibancari.com slash investment senza la E investment club ap tutto attaccato come lo vedete così poi dunque Mario i termini di servizio non sono leggibili nella pagina di iscrizione perché? perché c'è un video basta guardare il video e c'è tutto è tutto specificato in modo chiaro ma poi se voi cercate l'inghippo per mettermi in contraddizione non lo trovate e non è un modo di iniziare un rapporto fiduciario perché se non vi fidate nemmeno di cosa vi dico io adesso poi diventa difficile lo dico come riflessione diventa difficile poi seguire le indicazioni in un portafoglio standard quindi non convengono le cedole Davide dipende dipende dal portafoglio noi diciamo che come vi ho detto utilizziamo prevalentemente ETF distribuzione ad accumulazione di proventi però i ragazzi hanno anche entrambe le versioni quindi se uno vuole la cedola gli diamo qualcuno chiedeva anche prima chiedeva la differenza fra un junior e un senior allora tutti i collaboratori sono formati da me lavorano sotto la mia stretta supervisione è questione di esperienza nel senso che i junior quindi quelli che seguono i portafogli gold e platinum sono di ragazzi preparati che seguono le mie indicazioni Pier Giorgio Fontanella è una persona che ha credo almeno una decina d'anni di esperienza viene dal mondo del trading e con me dal 2014 pure lui tanto Pier Giorgio non c'è quindi vi racconto una cosa come che l'ho scovato che era preparatissimo e a un certo punto ho pensato boh questo come ha rotto le scatole o lo mando a stendere o lo assumo nel senso che veramente era preparatissimo a parte le battute ma poi non è è andata veramente così ha una grandissima esperienza e anche una grande sensibilità umana perché poi bisogna essere psicologi non lo dico perché mia moglie è psicologa ma perché proprio l'aspetto di psicologia conta per l'ottanta per cento di risultati allora poi Guido chiede utilizzate delle strategie short direi no scusate che mi dicono non è raggiungibile segretibancari.com slash ecco guardate facciamo così eccro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.